A questo punto io vorrei sentire un po' sia la dottoressa Serrao che il dottor Vacca con riferimento a una presentazione di loro esperienze in relazione alla necessità o a circostanze che hanno potuto evidenziare lo svolgimento o l'utilizzazione dei tre saperi ai quali facevo riferimento nelle organizzazioni. Avrei anche interesse in relazione all'economia di queste trasmissioni che stiamo realizzando, sapere se le considerazioni presentate fino a questo momento sono, dagli interlocutori che ho qui a fianco a me, condivise oppure se hanno osservazioni particolari da fare con riferimento alle argomentazioni fin qui presentate. Pertanto do la parola alla dottoressa Serrao e sentiamo qual è il suo pensiero. Buonasera, l'esperienza di cui parlava la professoressa Giudice, per me dottoressa Giudice perché è una conoscenza di un altro mondo di lavoro in effetti. Sicuramente il mondo della pubblica amministrazione dove io opero è quel mondo tanto contestato molto spesso dall'esterno. Perché? Perché si è portati sempre a dedurre che la pubblica amministrazione e la battuta dell'inefficienza della pubblica amministrazione è proprio un modo di dire. Perché se effettivamente poi alla fine il pubblico o gli utenti valutassero effettivamente quanto dalla pubblica amministrazione tutti i giorni, anche con tante critiche o con tante lungaggini, hanno, ebbè probabilmente cominceremo a rivalutare questa pubblica amministrazione e nel quel caso il comune che è quello con la quale ha più direttamente contati tutti i giorni. Vado a pensare, questo devo dirlo effettivamente, che la vita di un comune, la vita di una città, di un paese è costantemente e continuamente seguita, è monitorata e aiutata dal mondo del comune, dal mondo di un'attività, della pubblica amministrazione. Dalle strade alla pubblica illuminazione, dalle scuole alle reti idriche, alle reti fognare, un piano di insediamenti produttivi a tutto il sociale, dai laboratori. Cioè è una immensità di fatti e di avvenimenti che la pubblica amministrazione, tanto inefficace e stranamente però riesce a portare avanti. E molto spesso con risorse umane limitate e con risorse finanziarie sempre di meno, sempre minori. Quindi questo, perché si riesce a fare molto spesso tutto questo? Perché all'interno questa organizzazione, anche con tante difficoltà, con tante limitazioni, riesce a fare gruppo, riesce comunque a voler portare a termine il proprio compito, che è quello di dare un servizio pubblico. Ci possiamo allacciare su questo proprio i famosi saperi di cui parlavamo. C'è un sapere di conoscenza, c'è un sapere punto professionale, ma c'è anche un modo di lavorare insieme che consente di eliminare e di bruciare tutte quelle difficoltà che sono insite nello stesso tipo di lavoro. Perché l'amministrazione che riesce comunque a dare un servizio all'utente non lo dà direttamente spesso, perché deve passare anch'essa attraverso tutta una serie di procedure e di difficoltà burocratiche che sono connesse agli altri eti con i quali entra proprio come raffronto. Parlo dell'ASL, parlo dei vigili del fuoco, posso fare l'esempio tranquillamente dei vari assessorati regionali con tanti tipi di autorizzazioni. Tutto questo l'amministrazione comunale lo supera per dare un servizio. Quando riesce a superarlo? Velocemente. Quando riesce a superarlo velocemente è perché il famoso gruppo di lavoro entra in sintonia. Qualche volta questo è più difficile ed è più difficile anche perché nella pubblica amministrazione ancora qualcuno cerca di lavorare dentro il proprio ufficio a compartimenti stagno. È lì che dobbiamo andare ad indirizzare il nostro intervento di formazione, sì, ma soprattutto di comunicazione, perché quello che poi va a creare questi squilibri o queste problematiche è proprio la difficoltà di comunicare tra le persone. E quello purtroppo è un problema anche insito nella struttura di ogni individuo. Su questo si deve lavorare molto e si può lavorare su questo sforzandosi di lavorare, si ingruppa, ma soprattutto cercando di motivare con l'obiettivo finale tutti coloro che lavorano per raggiungere quel determinato fine, dalla figura professionale minore alla figura professionale maggiore. Questi devono sentirsi in un unico, cioè proprio nella tensione insieme per raggiungere l'obiettivo. E questo è quello che effettivamente la pubblica amministrazione di fatto fa costantemente e tutti i santi giorni, ininterrottamente 365 giorni l'anno. Chiaramente poi ci sono le disfunzioni che ci sono. Le disfunzioni possono derivare da una serie di problematiche, a parte l'essere umano con tutte le sue difficoltà e le sue particolarità, ma molto spesso proprio dalle difficoltà che la pubblica amministrazione si trova nel perseguire un determinato, nel fare una certa procedura, nel perseguire un determinato obiettivo anche da parte delle altre amministrazioni, che non sempre sono in grado di rispondere perfettamente alle nostre esigenze. Però io continuo e affermo che la pubblica amministrazione non può essere messa così all'indice, assolutamente. E questo anche alla luce di che cosa? Di tutto quello che una pubblica amministrazione fa per lo sviluppo del territorio. Non solo, quindi non è soltanto un erogatore di servizi, di servizi istituzionali, ma è un promotore di sviluppo economico e proprio quelle amministrazioni, più illuminate di altre, hanno fatto e fanno nei confronti del territorio di riferimento, dagli enormi, sono proprio un volano da questo punto di vista e riescono, attraendo finanziamenti e mettendo in condizioni le imprese locali di avere intorno delle infrastrutture positive, ovviamente, ottengono appunto per loro una serie di vantaggi, che possono essere anche dai contatti che si può avere con gli istituti bancari, dalle promozioni che si possono avere con loro, da iniziative che possono essere comunque tendere a migliorare, anche nelle piccole imprese, quella capacità di crescere perché sanno di poter essere supportate dall'amministrazione di riferimento. Ecco, tutte queste cose sicuramente sono positive. Chiaramente poi ci sono anche le difficoltà perché vediamo anche i lati negativi. Sicuramente però questo è uno dei fini e le amministrazioni lo fanno tutti i giorni. Su questo è la prima esperienza, la prima considerazione. Grazie per la visione!